Andiamo avanti, è il momento di parlare di sport e lo facciamo, come accade da qualche giorno a questa parte, con un aggiornamento in diretta, sono anche tempi di calcio a mercato, con il nostro Massimo Profeta che è in collegamento e che infatti è qui, lo vedo. Ciao Massimo. Buon pomeriggio a te Marina e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto, insomma quanto riguarda il Pescara, Dell'Icarri, il nostro direttore sportivo Biancazzurro, sta lavorando alla Cremente per la costruzione dell'organico, ieri c'è stato un importante vertice a Roma con i dirigenti del club giallorosso, si è parlato di Salvatore Pezzella, regista classe 2000, l'intesa sembrerebbe essere davvero vicina. E' chiaro che al DS Biancazzurro non interessa il semplice prestito del metodista, la volontà è di patrimonializzare il cartellino di Pezzella che nelle ultime tre stagioni, lo ricordiamo, ha militato nel Siena, l'ultima stagione, poi con la Reggiana e tre stagioni orsono con il Modena in Serie C. Il classe 2000 è particolarmente stimolato dalla possibilità di indossare la maglia del Pescara, salvo imprevisti insomma l'operazione andrà a buon fine, c'è qualche problema in realtà per Cuppone, altro giocatore importante, un attaccante che ha fatto molto bene lo scorso anno a Potenza, due anni fa nella Casertana. Manca ancora, a dire il vero, l'accordo con il Cittadella che è proprietario del suo cartellino, bisognerà definire modalità del trasferimento, è chiaro che il Pescara punta al prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del delfino in Serie B. Poi c'è la notizia che circolata nelle ultime ore riguarda Pasquale Maiorino che non è più giovanissimo, è un 89, è 33 anni compiuti ma è un attaccante di spessore, di categoria, ha segnato dieci gol nella Virtus Francavilla. Ebbene è stato un giocatore alle dipendenze del neotecnico del Pescara Alberto Colombo, proprio due stagioni orsono nella Virtus Francavilla. Diciamo che ci sono stati fatti passi avanti, Delicari ha proposto un anno di contratto a Maiorino con Opuzione, vedremo quello che succederà, però insomma c'è molta ma molta fiducia. Tra l'altro questo è un ragazzo che ha segnato parecchi gol, soprattutto nel Sorrento e nella Torres, nel Sorrento stagione 2013-2014 e nella Torres l'anno successivo 16 gol, dunque 32 centri in due stagioni, un totale di 64 gol. Ma ha fatto molto bene lo scorso anno con la Virtus Francavilla, ribadiamo dieci gol all'attivo, ha anche vinto un campionato nel Livorno segnando sette gol nella stagione 2017-2018 con appunto la squadra toscana che era allenata da Sottilla. Un trequartista, seconda punta, può giocare anche da esterno nel 4-3-3, insomma Maiorino è un attaccante brevilino, veloce, potente, dotato di un ottimo tiro. Diciamo che ci sono tante trattative che stanno per essere ufficializzate, per esempio quella di Milani, il terzino sinistro della Pontevera, quella di Saccani che è un terzino destro del Sassuolo, lo scorso anno ha fatto molto bene nella Vis Pesaro. L'Escano che arriverà, l'attaccante dell'Entella a titolo definitivo, poi vedremo Cupone della Latta, centrocampista di esperienza con tanti gol nel suo DNA, ne ha segnati sei nel Padova quest'anno, addirittura undici la scorsa stagione, o meglio due stagioni or sono sempre nel Padova. Un giocatore di indubbia affidabilità e poi arriveranno dal Monza, perché l'operazione è stata definita, tre giocatori, il portiere sommariva classe 97, il trequartista centrocampista Lombardi classe 2002 e poi il greco Siatunis, un giovane di prospettiva, scuola Sampdoria, due presenze in B nel Monza. Quest'anno è un centrocampista che funge soprattutto da schermo davanti alla difesa, ma può giocare anche difensore centrale ed è un 2002. Queste sono le notizie in nostro possesso per la giornata di oggi, tra l'altro comincia ufficialmente il mercato proprio nella giornata di oggi, venerdì primo luglio, ma il Pescara si sta muovendo anche per la campagna abbonamenti, perché torna dopo due anni di restrizioni causate dalla pandemia. Ci sarà la vendita per i soli vecchi abbonati della stagione 2019-2020 da lunedì 4 luglio a partire dalle ore 16 e in libera vendita a partire dalle 10 di giovedì 21 luglio al Pescara Store di via Carducci, con numerosi pacchetti vantaggiosi per vedere il Pescara in campo. Sarà necessaria la sottoscrizione della nuova tessera Fidelity Card, cuore biancazzurro, dal costo di 15 euro con validità triennale. Il diritto di prelazione in vigore soltanto nel primo periodo di vendita dal 4 al 20 luglio è dedicato esclusivamente ai soli abbonati da stagione 2019-2020 e darà la possibilità appunto di prenotare il precedente posto a sedere e usufruire della scontistica dedicata. Dal 21 luglio, con la seconda fase denominata vendita libera, decade il diritto di prelazione sul posto, ma non la scontistica che rimane in vigore sino al termine delle vendite. Naturalmente approfondiremo l'argomento. Infine il teramo perché c'è preoccupazione, come abbiamo detto ieri Marina, rischio iscrizione per il club biancorosso che non ha rispettato l'indice di liquidità che è perentorio. Nella giornata di oggi la Comisoc comunicherà i nomi dei club esclusi dal prossimo campionato di Serie C. Ci sarà comunque tempo per inoltrare il ricorso entro e non oltre le 19 di mercoledì 6 luglio, in caso di ulteriore bocciatura, collegio di garanzia del CONI e successivamente il TAR. Staremo a vedere per il momento è tutto. Marina, la linea può tornare a te.